400 chili di cocaina partiti dal Brasile e passati dall'Italia sono stati sequestrati in Kosovo. L'operazione effettuata con il coordinamento della DEA ha visto impegnati i finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria, la polizia kosovara e quella albanese che hanno inferto un duro colpo a un traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La cocaina era nascosta all'interno di un container imbarcato al porto di Santos in Brasile. La direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha disposto l'esecuzione di una consegna controllata, cioè lasciando che il traffico giungesse all'ultima tappa. Nel corso dell'operazione sono state fermate 25 persone, di queste 5 sono state arrestate. Prima di arrivare a Durazzo la droga è transitata dal porto di Gioia Tauro. Lì le fiamme gialle e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, attraverso la scansione radiogena, erano riusciti a scoprire i panetti. Grazie anche a un GPS agganciato al container, gli investigatori sono riusciti a ricostruire il percorso. Il blitz è scattato nei Balcani, quando la Guardia di Finanza, la Polizia Albanese e quella kosovara hanno fermato il camion e sequestrato 400 panetti di un chilo l'uno di cocaina purissima. La droga era occultata in scatole contenenti ufficialmente della carne di pollo. Al dettaglio, sulle piazze di spaccio europeo, la cocaina sequestrata avrebbe fruttato al gruppo criminale oltre 100 milioni di euro. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli eventuali contatti degli indagati con altre organizzazioni criminali.